Questo determinò dall'oggi al domani, in poche ore, una completa alterazione del quadro della curva epidemiologica. Dopodiché allora, a distanza di circa 24 ore, valutando alla luce del fatto sopravvenuto, dei fatti sopravvenuti, con piena condivisione da parte dei presidenti, delle regioni anche del centro e del sud, che non dovevamo attendere oltre, ormai la situazione imponeva il lockdown totale. Il giorno dopo, il giorno 10, il CTS si riunisce e formalizza la piena condivisione di questa decisione. Presidente, ne parlò col Presidente della Repubblica? Ovviamente sì, Presidente della Repubblica, i ministri, tutti quanti. Ne parlò con i capi dell'opposizione, Salvini e Meloni? Guardi, quasi tutte le decisioni le ho prese con loro, confesso, ma ha un problema di voto di memoria, non ricordo esattamente la formata ai capi dell'opposizione, ne ho fatte tante, credo anche. No, ma glielo chiedo perché...